qui c'è la luce posteriore qui dentro c'è il pacco batteria c'è anche un modulo per caricare sempre quella luce poi arriva la corrente a quest'altro modulo che ha sempre un altro modulo usb per la ricarica veloce dello smartphone questo è il farro anteriore un farro da 27 watt 24 volts ora vi faccio vedere acceso questa è la luce posteriore si vede da lontano da questo bottone si accende il farro anteriore che illumina tutto il box e credetemi che quando si viaggia su strada ti illumina abbastanza la strada se il video vi è piaciuto cliccate mi piace ciao ragazzi